per la scienza l'arcobaleno è un fenomeno ottico ottenuto con la divisione di un raggio di luce per il mito è la via che collega la terra degli uomini col trascendente sia esso il mondo degli dèi o il magico pentolone di monete d'oro in genesi sigla la promessa di dio di non inviare un secondo diluvio per i greci era il percorso di iris che dall'olimpo scendeva come messaggera divina e aveva ali d'oro e vestiva con infinite gocce iridescenti così iris o meglio iride dà il nome la parte colorata dell'occhio i cristiani appena ebbero bisogno di rappresentare gli angeli messaggeri del loro dio copiarono iris e spostarono i colori sulle ali così li rappresenta cavallini nel suo giudizio universale e cita l'apocalisse di san giovanni che descrive il cristo nell'ultimo giorno seduto sull'arcobaleno lo stesso fagiotto mentre colora la mandola nella cappella degli scrovegni a padova il foppa nella cappella portinaria affresca la cupola con un iride concentrico come se fosse rivestita da piume d'angelo e gli hindu l'arcobaleno è l'arco di indra dio guerriero della pioggia dei fulmini e delle tempeste da qui partirono le frecce per uccidere il serpente che desertificò la terra la rivoluzione culturale degli anni sessanta del novecento attinse i propri simboli da miti e leggende mischiandoli e reinterpretandoli l'arcobaleno diventò così simbolo dei pacifisti l'arcobaleno diventò così simbolo dei pacifisti gelber becca lo ridisegna ha otto colori ognuno indica una caratteristica dell'essere umano e sventolò per la prima volta al pride di san francisco il 25 giugno del 1978 quando si celebrò il nono anniversario della rivolta dello stonewall heen bar gay di new york gli avventori con in prima linea transessuale drag queen si rivoltarono alla polizia arrivata nel locale per schedare e importunare chi non era vestito in modo convenzionale o semplicemente beveva una birra la vendita di ancolici era vietata agli omosessuali come fossero dei minorati la bandiera arcobaleno si diffuse ampiamente solo nel novembre successivo sventolò dopo l'omicidio di harvey milk attivista che pagò con la sua vita la battaglia perché tutti fossero trattati allo stesso modo e nessuno si sentisse un figlio di un dio minore è curioso notare che un simbolo nato dalla cultura hippie e antisistema degli anni 60 e 70 perse in rosa il celeste perché difficili da reperire sul mercato ci furono altre modifiche ma la bandiera 6 band continua a sventolare anche dove ciò comporta rischi per la propria incolumità fisica buon prai da tutti